Flavio Insinna, la macchina della felicità... Scusate se si sente un po' troppo, non so, la musica... No, 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 va bene... La felicità e la musica... No, no, dico, tanto si sente... Allora, Flavio, non è uno spettacolo... Non l'hai definito uno spettacolo, ma un momento di ricreazione, come mai? Perché tutto parte dalle presentazioni del libro, dove non mi riusciva a raccontare un po' come vuoi, cioè noi di mestiere, soprattutto io mi considero... Un giornalista mi ha detto un canta storie, racconta storie, narratore di storie, un raccontatore, come ti pare a te? Cioè raccontare, raccontare che è la cosa più bella davanti al cammino, ai bambini, quando mia nonna mi ha insegnato il gusto per il racconto delle favole. Allora piano piano è arrivato uno strumento dopo l'altro, il libro si è fuso alla nota, quindi non capisci dove è più la parola, la canzone, naturalmente non è che lo leggiamo tutto, cioè rassicuriamo gli amici che in caso vorranno venire a vederci. Ce n'è qualche pagina, con la musica e qualche mio racconto, come dire, cuciamo, poi dice poi la storia va avanti, sai che è tutto Robin Hood, dice poi succede quello, poi lo sceriffo cattivo, poi... Non arrivo naturalmente al finale, per non rovinarla, chi vuole leggere la storia, ma l'ho definito una ricreazione perché succede quasi sempre, anzitutto una cosa succede sempre, da quando l'abbiamo fatto, ti giuro, non ho le cassette di tutte le serate, non è mai venuto una sera come la sera precedente, noi ripartiamo da dove finiamo la sera prima, ma non ci riesce, ma neanche se volessimo, secondo me anche se con l'orchestra dicessimo, scommettiamo, 10 euro attesa, non ci viene, ma perché? Perché cambia l'allegria delle persone, l'umore di come arrivano, il posto, la regione, la città. E poi, finita diciamo la parte del libro, c'è veramente libertà assoluta d'azione, leggiamo i pensieri che ci scrive le persone che ci scrivono prima di entrare, se hanno voglia, in delle città di più, di meno, noi lasciamo un nostro buscolo vuoto, con il logo, la macchina della felicità, e ci puoi scrivere la tua idea di felicità. E leggiamo i più strani, i più belli, ma anche i più toccanti, ma si passa dalla felicità, per me è un gelato a passeggio, agli occhi di mia nonna, la mano di mia mamma, quindi toccante, da ridere, alcuni non li capiamo, li leggo al pubblico, ma mi potete aiutare? Ieri sera ne abbiamo letto, una Taranto che iniziava così, la felicità per me è serenità, virgola, più niente. E ho fatto accendere la luce, e c'è una signora, dice sì, ho messo la virgola, poi a piacere fai tu, quindi c'è il massimo della condivisione, appunto dell'allegria, la nostra sfida è una, perché poi anche nella vita, se è solo tua la felicità conta poco, se la riesci a condividere, a dividere, una parte a te, una parte a me, allora noi abbiamo vinto, quando alla fine, grazie a Dio succede quasi sempre, non voglio di sempre per non vantarmi, diciamo quasi sempre, molto spesso, le persone alla fine ci vengono a salutare, si fanno le foto, i selfie, la dedica sul libro, su un pezzo di carta, sul biglietto, abbiamo anche i palloncini alla fine per cantare, la leggerezza, l'allegria, appunto la mancanza di peso, la leggerezza, quei palloncini, e qualcuno che proprio ti dice, guarda io me ne vado più felice di come sono arrivato, noi lì abbiamo vinto, perché io ti dico una cosa, l'orchestra non è per dire, noi siamo amici da anni, quindi per noi già venire in un posto così bello, una città così bella, oggi mi sono visto pure il mare, cioè io che so subacqueo, cioè arrivi a Bari, vedi il mare, ma che vuoi dire, il ma pure arrabbiato, c'è ancora più bello, cambiavano i colori, grigio, grigio scuro, poi un po' di sole, così, noi già avremmo vinto, cioè già siamo felici tutti insieme, a suonare, a lavorare insieme in un posto così bello, le persone vengono, e però lì non è, è solo nostra, la sfida meravigliosa dice, ma ve ne andate felici pure voi, non dico quanto noi, ieri sera ti posso dire, sempre a Taranto, secondo me, loro hanno reso più felici noi, noi ce l'abbiamo messa tutta, ma secondo me, per l'affetto crescente durante la serata, secondo me, con Taranto siamo in debito. Addirittura, addirittura. Senti, la macchina della felicità non è soltanto il titolo, la tua parere può essere anche uno status da applicare in questo momento, in questo contesto che stiamo vivendo un po' particolarmente. Sì, perché, oh, ci hai azzeccato, perché in realtà... Li faccio fermare? Senti, è la vita, la vita, Coghi e Renato, è la vita, l'è bella. Questo è il pubblico, la canta sempre, addirittura mettiamo le parole, il karaoke. Se vuoi aspettiamo, come vuoi tu. In realtà il titolo parla di tutti noi, quando tu decidi di essere la felicità di qualcun altro, la macchina della felicità di qualcun altro. Nella storia, è un uomo e una donna, si innamorano e decidono di essere uno, la macchina della felicità dell'altro. E secondo me lo dobbiamo essere tutti, per chiamiamo, per i nostri amici. Eh, ciao, ciao. Eh, ciao. Aspettiamo, se vuoi li fermo, eh. Aspetta, è troppo, aspetta. Aspettiamo un'altra. L'orchestra adesso ricomincia le prove, che sono, vedi, già sono felice ai 6 e mezzo. Torniamo dopo la pubblicità. Stacco, eccoci qua. Siamo tornati. E quindi quando uno decide di essere la macchina della felicità di qualcun altro, il massimo è che anche l'altro voglia essere, perché se sei solo tu, va bene pure quello, però se è reciproco è quello là, perché c'è uno scrittore che ha detto la felicità va condivisa perché è nata gemella. La trovo una frase meravigliosa. Perché se è solo tua, non è felicità vero, cioè è il tuo orticello. E invece, come dici giustamente tu, in un mondo, in un paese così faticoso, affaticato, stanco, ti devi porre il problema e provare a spandere un po' di felicità. È una mission importante anche per te in questo caso. Sì. Strappare un sorriso alla gente. Sì, strappare un sorriso alla gente. Stasera ci sarà anche Emergency con noi, spesso qui a Bari al Teatro Team. È un impegno che ho da tanti anni con loro, anche con altre organizzazioni che fanno il bene per davvero in Italia e nel mondo. Ad esempio, pochi sanno, o comunque non tantissimi, che Emergency, ormai per come siamo messi, appunto parlando di mancanza di felicità nel nostro paese, a dei centri dove cura anche gli italiani, perché gli italiani che non hanno più soldi, che scompaiono dal sistema sanitario, non hanno stipendio, dici dove ti vai a curare. Ad esempio, io sono andato a fare delle interviste a Marghera in un poliambulatorio di Emergency dove c'erano in sala d'attesa gli italiani, perché uno pensa solo, e già sarebbe una cosa meravigliosa, curare gli stranieri, le persone in difficoltà che arrivano da altri paesi. Ormai siamo arrivati a questo. Ci sono milioni. L'abbiamo alla porta a fianco. E hai ragione, quindi porsi il problema è bravissimo. E hai ragione. Alle volte neanche sappiamo come si chiama, quello della porta di fronte, e invece c'è il problema. Allora mio papà che faceva il medico mi diceva sempre, Flavio girati sempre a dare un'occhiata dietro, che c'è sempre qualcuno in ritardo, ma non in ritardo perché è voluto arrivare in ritardo e svogliato, che fa fatica ad arrivare e tu devi fermarti ad aspettare e a dare una mano. E quella allora è la felicità. Scusa, scusa. No, a proposito dicevo di azioni importanti, che hai un'agenda fitta di impegni, non l'abbiamo spiata durante la pubblicità, ma so che il tuo tour prosegue fino al 2018, da nord a sud, da sud al nord. Io volevo ricordare un appuntamento importante, sabato su Rai 1, è stato presentato i giorni scorsi, sarai protagonista di questa serata. Lascio dire a te. È Rai 1 con Unicef, e l'abbiamo definita tutti una scelta di campo. Cioè sì, sarà un programma televisivo, ma soprattutto sarà, io sono sicuro per l'ennesima volta, in questi anni l'ho visto in televisione, non è che faccio le chiacchiere, vedevo i numeri, i dati, della generosità degli italiani, nonostante la crisi, quando tu gli racconti di un obiettivo che vale la pena raggiungere e aiutare. Quindi l'Unicef aiuta, pensa in 190 paesi del mondo, io pensavo che fossero di meno nel mondo, se in 190 paesi del mondo c'è l'Unicef non solo per dare una speranza, sorriso, ai bambini, la speranza poi deve essere un sentimento testardo che non muore mai e lo deve aiutare concretamente. Il numero è quello 45566, sabato sera su Rai 1 saremo là, appunto il titolo è Prodigio, ma il vero Prodigio, ne sono sicuro, sarà la generosità del nostro popolo, io non l'ho mai chiamato pubblico, il popolo di Rai 1, che quando appunto lo chiami a dare una mano, che sia il Teleton, l'AIRC, Emergency, appunto in questo caso la meravigliosa, il meraviglioso Unicef Italia, e faremo una cosa, sarà molto importante, ogni tanto con Anna Valle, è lei che è presente, io faccio un po' così, il custode del palazzo, faremo vedere proprio fisicamente gli oggetti materialmente in cosa si tramuteranno gli sms e le telefonate, perché sai, uno può anche pensare, dove vanno a finire? Se ne sentono tante, non se ne vengono tante, diventeranno coperte per i bambini che in gioco per il mondo, arriva l'inverno, sta piovendo, si sente il sottofondo, per noi stiamo a riparo, poi andiamo nelle nostre belle casette calde, coperte, vaccini, in questo paese dove stiamo tutti a fare polemiche dall'altra parte del mondo, dice vaccinateci, e porta perché si muore con decolera, si muore di tante malattie, ci sono le epidemie, faremo vedere le sacchette quelle, sai, i cibo reidratanti, cioè, i integratori, che noi li usiamo dopo la palestra per fare i fighi, lì proprio ti cambia, si vive o non si vive più, il sottotitolo è La musica e vita, per avere la musica, come avete sentito fino ad un attimo fa, e la vita la devi aiutare, e tanto per cambiare serve il dinero, serve la vile moneta, ma soprattutto appunto serve la genosità, e ti posso dire una cosa, io ogni anno che passa, ringrazio sempre di più il popolo di Rai 1, il popolo della Rai, lo sforzo che fanno, perché è sempre più difficile, e veramente anche un SMS vale ancora di più di quello che posso fare io, che ne posso fare da 10, 20, quell'SMS là, di quella signora, una volta, una tenerezza infinita, mi ha fermato per strada, dice Flavio, mi sono sbagliata, e ho digitato quello un po' più costoso, e tu senti, dice però sono felice lo stesso, dice certo per me 5-10 euro, mi cambiano, dice però comunque sono contento di farlo, perché uno altrimenti rischia di perdere, il concetto, poi io lo dico sorridendo, perché le cose le devi fare in leggerezza, ed è vero, un caffè in meno, oppure un SMS, un ti amo in meno, poi te lo dici di persona, mo tutto qua a sera, tutto st'amore qua a sera, poi resta, ho in ritardo, e quando ti vede che arrivi, glielo dici, sto in ritardo, io la provo a mettere anche in allegria, perché è giusto, però veramente, non smetteremo mai di ringraziare, perché ogni anno che passa, questo paese purtroppo fa più fatica, però allo stesso tempo, trova la voglia, la forza di essere generoso, tornando alla felicità, la voglia di dare felicità anche agli altri, io ti posso dire, negli anni di affari tuoi, quando nei giorni a seguire, delle campagne, quelle sociali, arrivavano i dati con le cifre donate, cioè io mi commuovevo, perché è una roba straordinaria, soprattutto che ti credano, ma non è che dici, io li sto chiedendo per me, che però tu sia un tramite credibile, no? È una cosa che ti emoziona, se lo fai col cuore, se lo fai credendo, ci ripeto, cercando, guarda, c'è in una poesia meravigliosa, dice poi alla fine il successo che cos'è, e lui in questa poesia c'è una serie di piccole cose, tra cui lasciare il mondo un pezzettino meglio di come l'hai trovato, secondo me se tutti, no? Ci prendiamo una piccola aiola e la lasciamo meglio di come l'abbiamo trovata, perché non è che è nostro, è in affitto, insomma siamo dei passaggi, poi lo lasciamo ai bambini che arrivano dopo di noi, se tutti curassero, ci scegliamo una aiola e la lasciamo più fiorita, più rigogliosa di come l'abbiamo trovata, ecco la felicità. Tornando al tema dello spettacolo, noi possiamo che augurarti un in bocca al lupo per questo tour. Noi diciamo vive il lupo, il mio zio acquisito in niofrassica dice vinca il lupo, vinca il lupo, quello è buono, cioè se i lupi buoni, i lupi sono buoni. Perfetto, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.